Ben ritrovati a tutti ragazzi, siamo nella sezione moda, accediamo, oggi vi faccio vedere come costruire senza limiti in modalità con costruzioni di Fallout, chiaramente con una mod, una mod che si chiama No Limits Builds se non sbaglio, ora vediamo, la andiamo a cercare, è una mod utilissima che praticamente elimina il blocco creato da Bethesda per la mod. Per quanto concerne gli accampamenti, i vostri insediamenti, si chiama No Limits Builds All DLC, chiaramente esiste la versione senza DLC e la versione con i DLC, cosa cambia? Cambia che se avete DLC, appunto, avete accesso a nuove officine, questi No Limits, diciamo, si applicano anche a quelle officine, se invece non avete le officine aggiuntive potete tranquillamente scaricare quella base perché avrete tutti gli insediamenti comunque sbloccati. Basterà scaricare la mod e attivarla e piazzarla quanto più possibile in lista, in cima alla lista delle mod e poi praticamente si attiverà da sola, ora vi faccio vedere comunque il funzionamento, come capirete se la mod è attiva e sta funzionando o meno. Con questa mod praticamente non avrete nessun tipo di problema per quanto concerne le costruzioni, non guardate lì, non guardate lì. Praticamente una volta entrati in modalità costruisci, aspettiamo al solito che entri perché ci vogliono cent'anni per avviare sta cacchio di modalità costruisci con tutte le mod che ho. Potrete guardare in alto a destra, vedete dove c'è scritto dimensione, comunque farò uno zoom, e praticamente la dimensione è completamente azzerata. Nel gioco base che succede senza questa mod? Che è arrivato a un certo punto, per quanto concerne le costruzioni, mettete delle piante, delle case, le costruite, qualcosa di questo tipo, macchine, roba, comunque la barra si va sempre a riempire. È arrivato a un certo punto, vi dice il limite di costruzione raggiunto, e a questo punto voi non potrete più aggiungere nulla. Invece con questa mod eliminate tutti i limiti di costruzione in un accampamento. Badate bene ragazzi, è chiaro che ci sono delle controindicazioni. Se voi riempite, vi posso dire, santuari in un modo assurdo, ok sì, andrete a costruire tantissima roba, ma è chiaro che il gioco vi laglierà moltissimo, scenderà a tanti frame. Invece eliminate ad esempio queste case e fate altre case e non le riempite chissà quanto, però le avete ricostruite da zero con il vostro stile e il vostro tipo di arredamento. Anche per questa mod è tutto, io vi saluto al solito, lasciate un bel pollice in su se la mod vi è stata d'aiuto e vi piace. E noi ci vediamo alla prossima, ciupacabra, ciao a tutti ragazzi! Grazie a tutti!